Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di The Sims 4 fenomeni paranormali e aggiungerei anche ultimo aggiornamento di questo staff mi è piaciuto tantissimo comunque giocarci da sola e giocare insieme a voi tramite questi aggiornamenti per esplorare bene questo pack devo dire e lo dico in due parole che mi è piaciuto tantissimo mi ha divertito rispetto ad altri staff non lo so l'ho trovato molto ricco poi c'è questa appunto caratteristica diversa particolare e quindi uno si può anche cimentare ad avere un sim con una carriera appunto particolare non ho un altro aggettivo da dire trovo che questo sia giusto ed è molto divertente sì lo ammetto mi è piaciuto ma dal trailer mi aveva già colpito il fatto del CAS e delle arrede ma già dal trailer come avevo detto negli scorsi video mi aveva già conquistato la modalità compra costruisci e il CAS stupendo comunque siamo al lavoro con Emma volevo iniziare l'aggiornamento entrando già nel vivo e dopo vi racconterò tante cose perché adesso che toglierò la modalità tab noterete in basso che nelle novità familiare ci sono un sacco un sacco di novità che devo dirvi ma siamo di nuovo al lavoro con lei a magnola promenade questa volta in un negozio sempre con un incarico difficile come vedete questa volta l'ho preparata le ho messo un outfit adeguato i capelli sono raccolti perché appunto non può star lì a pensare i capelli nel suo bel cappello anche perché siamo in inverno e le ho messo questo soprapido uscito con oasi innevata che trovo non so perfetto per questa carriera un orologio e le scarpette invece sono di fenomeni paranormali ok io faccio fine di non vedere questo vi spiegherò dopo continuiamo entriamo appunto nel vivo è l'incarico di quei difficili come avevo detto l'altra volta che non ci sono riuscita allora è anche un po a fortuna perché tanto posso riuscire a sbarazzarmi di tutti i simboli e far andare via gli spettri cosa che io non capisco ma da sola ci riesco o anche no con l'altra persona che vedete qui nell'unità familiare sono molto avanti lei tipo è a livello 1 della carriera mentre l'altro è a livello 5 questo perché lo mando sempre da solo sì lo so è un incubo è brutto spaventoso a quanto la candela si è consumata se la rivendete ci guadagnate anche dei soldini ovviamente un negozio si crea il panico davvero l'altra persona stavo dicendo è molto più avanti di lei è a livello 5 semplicemente perché la mando spessissimo da sola io seguo lei ovvio e anche lei quando è rimasta quando lo mandavo da sola le faccio fare incariche semplici e medi per andare avanti con la carriera ma questi qua difficili mi piace seguirla e farli io proprio per avere la soddisfazione di dire ho concluso l'ingaggio mamma che sta succedendo in questo negozio il panico ma pure tu mi meraviglio che tu sei anche coraggiosa dai su bravissima dai che quasi finito ok anche in bagno c'è la melma allora però devo dirvi una cosa quando mandati da solo il sim a fare questa carriera diciamo che non bisogna approfittare nel senso dopo la quarta volta dopo la terza volta anzi che lo mandate da solo la quarta se di nuovo lo mandate da solo state certi che tornerà a casa con l'ingaggio fallito e la notifica vi dirà proprio il fatto che è bene seguire il sim ogni tanto a lavoro solo che io con lui non l'ho appunto mai fatto nonostante mi usciva la notifica invece con lei si alterno da sola e che lo faccio io siamo praticamente alla fine dai che ce l'è quasi fatta allora se i simboli a terra sono tanti e appunto noi arriviamo come dire qui alla fine non c'è nemmeno bisogno di star perdere tempo a convincere gli ispirati ad andare via perché l'ingaggio sarà concluso e noi abbiamo risolto il tutto ok dai dai sono le tre mamma mia certo è però un negozio davvero tutte queste persone intorno non ti preoccupare vieni qua vai lì non ti preoccupare bravissima bravissima vieni qui che altro c'è ci sono loro io ti sposto le candele intanto ti fanno compagnia ok così brava sta anche qua un'altra che poi con l'anime non è almeno semplice ma guardateli il panico oh mamma anche tu no però ah sì questo qua è la candela ok un ultimo pezzettino allora si rientriamo una tela conservi mini qui aspettate fatemi controllare a c'è questo simbolo ok perché quando gli spiriti sono rossi veramente molto 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 difficile convincerli per farli andare via ok e lei con tutto che è coraggiosa comunque guardate il trap il mood fattore paura però riesco a tenere la bada tra candele e yes ce l'abbiamo fatta ingaggio completato ogni volta che completiamo un ingaggio riceviamo un oggetto premio è ormai lo scoperti tutti perché sono sempre gli stessi ma rimango qui perché devo recuperare le candele e torniamo a casa così ci sarà ho preso tutto sì ci sarà parentesi aggiornamento con le foto e ritorniamo in gioco l'ultima volta ci siamo lasciati che Emma proprio nel mente registravo aveva ricevuto una notifica per un eventuale premio delle stelle per quanto riguarda un suo libro io poi la domenica ci sono andata lei è stata in mezzo alle celebrità anche se la guardavano un po strani visto come era vestita di certo non chic come loro ma purtroppo non ha vinto nessun premio e vabbè continua il suo lavoro alla grande e poi si avvicina halloween la sua festa preferita un amante del mistero del paranormale figuratevi se non adorava halloween e qualche giorno prima si è messa a intagliare le zucche per decorare casa questo è il decoro che ha messo e il vestito che ha scelto è stato un misto tra strega e medium quindi un vestito un po particolare che mi è piaciuto tantissimo poi ha preparato tanti ben manicaretti per la serata perché ha organizzato la festa spettrale con i suoi amici quando arrivavano bambini adolescenti a prendere le caramelle lei si divertiva a spaventarli ma di conseguenza ghidri si divertiva a spaventare lei sono due folli sono sempre super innamorati la festa comunque va super bene ho chiamato anche il mixologo e guardate un po chi mi si è presentato il suo justin il fidanzato umano infatti quando ghidri non era nei paraggi loro chiacchieravano facevano effusioni insomma emma sta ancora un po in bilico tra due scarpe e la serata si conclude con una bellissima seduta spiritica non partecipano tutti perché sono dei fifoni rimangono soltanto daniele alberghini ed emma l'amica vicina questo era il vialetto come aveva decorato con le sue zucche e le tombe con la nebbia qualche giorno dopo si presenta la porta justin e insomma tra e due scocca sempre quella scintilla ma questa volta finiscono a letto tanto ghidri di giorno non c'è quindi lei si è divertita però succede che scopre di essere rimasta incinta e allora basta basta fare così bisogna prendere una decisione e decide di lasciare justin non gli dice che lei incinta penso non glielo dirà mai perché lei vuole stare con ghidri infatti lui poi scappa via perché alla porta si presenta il fantasma e questi due pazzi decidono di stare insieme per sempre vogliamo dire così non lo so intanto gridi le confessa che in realtà un modo per portarlo alla vita ci sarebbe anzi due lui potrebbe cucinare l'ambrosia ma gli servono degli ingredienti perché mi sono ritrovata che ha l'abilità alta cucina al massimo oppure bisognerà esprimere il desiderio al puzzo intanto ho eliminato la categoria di casa infestata perché non aveva più senso lei ha liberato la casa perché anche un'investigatrice paranormale quindi va a liberare le altre case non vedo perché la sua doveva rimanere infestata quindi poi bisogna dare una fine e la fine si dà togliendo i tratti che mettiamo noi all'otto ripulisce il tutto come vedete il giardino l'ha arredato poi vi mostrerò meglio perché anche dentro casa è tutto bello rinnovato vanno ad esprimere il desiderio al pozzo ma il pozzo li dà un ingrediente ovvero il fiore della morte che lei pianta però siamo in primavera il fiore della morte crescerà in inverno ma tanto bisogna trovare pesce angelo bisogna acquisire i punti per comprare la porzione della giovinezza insomma ne hanno di tempo per prendere gli altri ingredienti intanto la gravidanza va avanti arriva il giorno del ringraziamento lo vestigiano insieme si fanno anche questa bellissima foto ricordo sperando che lui poi non sarà più un fantasma no però resta il ricordo questo è il decoro del ringraziamento ed eccoli qui sempre più felici che mai e poi arriva il giorno del parto la decide di partorire in casa per l'amore di ghidri visto che lui non può andare in giro tranquillamente e partorisce una bellissima bambina ariana lui comunque la prende subito in adorazione e l'adotta come bisognosa di cure ritorna al pozzo richiede di nuovo di essere portato in vita sperando che funziona ma anche questa volta gli da un altro ingrediente il pesce angelo ok perfetto hanno tutti gli ingredienti manca soltanto che cresce il fiore della morte le ha presentato ariana alla vicina e poi è cresciuta la piccolina ed è bellissima ghidri non gli fa affatto paura anzi lo cerca sempre e adora stare in sua compagnia poi sono arrivati la gattina prissi e il gatto nero denver ritorniamo al pozzo di desideri speravo che lo riportare in vita ma l'interazione c'è stata cioè veramente non c'è stato più ingredienti ha fatto proprio la cosa di portarlo in vita ma no lui è rimasto fantasma cioè mi è uscita la notifica miracolo vivificatore riavere due braccia fatto riavere due gambe fatto non riuscire ad attraversare i muri fatto ghidri è tornato nel mondo dei vivi ma in realtà no no ragazzi lui mi è rimasto fantasma ho fatto l'ambrosa gliel'ho fatta fare due volte mi fa sempre l'interazione del risorgere ma lui resta fantasma ma infatti già mi era parso strano perché con tutta la barra dell'amicizia al massimo e dell'amore io non riuscivo a farlo convivere in casa perché al fantasma a un certo punto esce chiedi di convivere non riusciva mai io l'ho messo in casa forzatamente l'ho fatto aggiungi in famiglia quindi penso che lui come personaggio è nato come fantasma e basta quindi lui deve rimanere fantasma perché i suoi codici del gioco sono così è l'unica spiegazione che mi viene in mente comunque due decidono di restare insieme lo stesso non fa niente che lui fantasma sono innamorati persi e lui le chiede la mano comunque la vuole sposare vuole avere anche dei figli con lei e lei accetta perché era quello che desiderava entro subito nel cas per presentarvi quindi tutto il resto dell'unità familiare allora per quanto riguarda emma come vi ho detto le ho aggiunto soltanto questo abito per quando esce al lavoro mi piace davvero tanto e appunto cioè è perfetto è stupenda questi capelli qui sono di vita universitaria dovrebbe avere la coda ma con il cappello non ce l'ha poi c'è il gatto nero denver che adesso sono cresciuti entrambi e ha questo papillon nero con il sonaglietto è un bombè americano è malizioso spirito libero affettuoso io li ho adottati quindi i tratti li ha decisi il gioco eccolo qui il nostro claude rené ghidri e come aspirazione lui ha grande famiglia felice perché appunto il suo grande desiderio è quello di avere dei figli visto che nella vita tra virgolette terrena ha pensato soltanto a divertirsi a fare stragi di cuore a fare infuriare temperance quindi non aveva proprio quel desiderio adesso forse anche con emma lo ha acquisito lui è romantico buon gustaio e amante dell'arte questi proprio i tratti che gli ha dato il gioco e essendo un fantasma i suoi vestiti sono tutti così tutti uguali ovviamente c'era un altro colore io l'ho cambiato con questo qui nero mi piaceva molto molto di più e di base è un bellissimo sim io gli ho aggiustato la mandibola perché mi piace una mandibola un po' più pronunciata con un pochino la forma degli occhi diversa ma per il resto sopracciglia capelli il naso la bocca è sua e l'ho lasciato così perché quando lo vedete lo dite no è ghidri punto non ci si può sbagliare per quanto riguarda la bimba cioè ragazzi non potete pensare al mio shock quando l'ho vista crescere perché a questo punto devo pensare che a glimmer brook tutto è davvero possibile perché la piccola riana sarà un'incantatrice io adesso non so se justin era un incantatore oppure no ve lo giuro può darsi di sì a questo punto in effetti lui è un abitante di glimmer brook è il barista del bar può darsi di sì e però ecco mi ha fatto molto piacere e un'altra bellissima coincidenza è che ha gli occhi viola perché il papà è biondo quindi lei ha preso dal papà con gli occhi verdi chiaro lei li ha rossi o si è creato un bel miscuglio oppure appunto è tutto perfetto i capelli sono di fenomeni paranormali trovo che è adorabile questa bambina e ho randomizzato il tratto a caso e mi è uscito angelica e glielo ho lasciato questo è il quotidiano il formale da notte da festa che è una piccola fatina appunto è perfetto il costumino da caldo da freddo questo è per stare in casa con il gatto nero trovo che sia perfetto e poi il cappottino con il cappello per uscire fuori l'ultima gattina femmina è prissi lei ho messo un atto su un agnino però con quest'altro collare ed è pelosa viziata territoriale lei è un americano a pelo corto vi mostro anche l'albero genealogico ariana e la bambina di justin in mixologo e di emma e va bene così poi prima di entrare in casa volevo mostrarvi i premi che ricevete ad ogni fine ingaggio sia che seguite il sim sia quando non lo seguite intanto ci sono i tre spiriti gli amici spettri che sono verdi quelli furosi anzi quelli scontrosi che sono rossi e poi quelli abbattuti che sono blu eccoli qua poi ricevete il viticcio questo è proprio la primissima cosa che ho ricevuto le mani di argilla sia in versione argentata che dorata soltanto queste due versioni guardate quanti doppioni che ho e le bamboline altre sono in giro per casa ma in tutto ne sono quattro c'è quella scura mora e quella bionda solo che adesso la bionda non ce l'ho però in tutto ne sono quattro poi l'ideoli bizzarri invece questi ci davano gli spettri oppure ghidri per tenere lontano temperance e in più la scatola dei biscotti che ci rendeva energici sempre come premio degli spettri ed eccoci qui allora l'esterno come avevo già raccontato resta identico o almeno per quanto riguarda gli infissi e le porte internamente invece lei si è data un grande affare ormai guadagnano un sacco di soldi e hanno altri tanti soldi quindi il davanti è rimasto comunque semplice con fiorellini qui la fontana però non ci sono più sterpaglie erba secca eccetera soltanto questi viticci buoni presi in premio quando entriamo si nota subito il cambiamento eccolo qui come vi dicevo non vedevo l'ora di rendere la casa luminosa chiara accogliente la carta da parati è un misto tra il regno della magia e fenomeni paranormali così come tutto il resto del mobilio comunque c'è fenomeni paranormali regno della magia e poi altri decori intorno a questa è la scala che ci porta al secondo piano quell'ingresso c'è anche la bacheca ecco qui tutto l'ingresso poi abbiamo un nuovo arco bianco e questa adesso la cucina sala da pranzo c'è un bel tavolo grande con il seggiolone di qua c'è il nuovo mobile con la tv un quadro di ghidri l'ho messo da questa parte il baule con una bambola perché poi queste bambole sono buone poi ci sono comunque dettagli anche per quanto riguarda i gattini i decori hanno come colori il legno il bianco il verde acqua e loro questi sono super giù i colori infatti anche per quanto riguarda la chiappa sogna adesso è diverso per ogni stanza le tende l'ho messe così sul chiaro un po sul violetto che comunque richiama vedete i dettagli la credenza nuova con gli altri due spiritelli qui dentro ho una pianta mucca che ghidri mi aveva pescato nel mentre cercava il pesce angelo e biscotti mi stavo dicendo i biscotti spettrali comunque la scatola dei biscotti ricevute in dono aspirapolvere e croccantini per i gatti la cucina l'hanno verniciata in bianco e oro altri dettagli come verde acqua caffè gelato le lampade qui sopra le spezie lasciate alla finestra perché mi piacciono tantissimo e anche lo scrittoio è diventato verde acqua con una bella lampada il suo portatile insomma tutto bello rimesso a nuovo le edere a ogni angolo le adoro alla pianta nuova che ho rimpicciolito di uno perché davvero grande e le nuove lampade le applica stupende e i bagni anche sono rimasti identici qui c'è la lettera per i gatti e carta da parata e pavimento sono sul bianco così sono più luminosi poi andando in salotto allora a destra abbiamo sempre l'angolo bar sul bianco sul mobile c'è lo spettro rosso l'ho rimesso a posto lampada fiori che adesso sono diventati molto più belli prima ero un vaso nero ero comunque un po tetri l'angolo della seduta spiritica è adesso di questo bellissimo colore verde acqua e azzurro con tende chiare ho aggiunto anche un mobiletto con uno di quei premi con le mani d'argilla e questi cristalli che aiutano sempre nelle sedute spiritiche questi due gli idoli sempre qui davanti l'ingresso il graffiatoio per i gatti guardate che bello adesso la zona salotto sul bianco il verde acqua l'oro il rosino il nuovo tavolo qui dentro c'è il pesce farfalla che è una specie rara che ha pescato ghidri è bellissimo anche qui sul mobile ho messo poi la mano visto che ormai la missione è finita ghidri dei nostri e quindi la mano è soltanto decorativa qui c'è ghidri mentre sul caminetto c'era tv ovviamente con una playstation la pianta mucca è rimasta qui perché comunque è carina qui c'è un bellissimo angolo lettura edere eccetera uscendo fuori ho messo l'intaglia a zucche e di qua il grill come vedete c'è ghidri che sta facendo di hamburger anche lui è tornato dalla nottata di lavoro che è andata bene sta evidentemente a fame e alla fine ho messo il pozzo di desideri qui visto che tanto loro lo useranno spesso e più oggetti tra virgolette paranormali hanno inserito li metterò comunque a casa loro perché ci sta bene il tutto qui ci sono gli altri fiorellini questo qui è il fiore della morte che adesso non c'è perché l'abbiamo l'abbiamo raccolto il tavolo da picnic un graffiatoio sempre per i gatti allora andiamo al piano di sopra perfetto allora piano di sopra anche qui carta da parati come sotto la cameretta adesso a questa carta da parati sul neutro perché appunto vogliamo avere più di un figlio questa è l'altra bambolina scura mancherebbe soltanto la bionda e eccola qui la bimba si sarà appena svegliata guardate quanto è carina qui c'è il letto per bebè l'orsetto tutto bello riva riverniciato di chiaro e di qua invece c'è il letto poi per bimba per quanto crescerà e niente rimasto uguale camera da letto anche rimasto uguale però i mobili sono diventati chiari anche i comodini con l'armadio e lo scrittoio molto più bello il computer invece ha lasciato questo perché come dire era di ghidri quindi l'ha lasciato così non le va di buttarlo finché funziona mentre qui c'è la loro foto ricordo con lui fantasma il cammino anche è tornato chiaro e basta perché la soffitta è rimasta esattamente identica e questo punto la piccola ariana quando crescerà arriverà qui in soffitto scoprirà questo mondo diventerà quindi a tutti gli effetti un'incantatrice la bimba ha fame va bene ti sta cucinando gli hamburger sì 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 scendi vieni qua eccoli qua pronti nel mentre la bimba mangia e noi appunto abbiamo un'altra cosa da fare anzi due cose da fare voglio proprio farli sposare qui fuggi immediatamente con claude rené davanti il loro pozzo perché poi lui esaudirà un altro desiderio visto che quello di essere portato in vita non si può fare io ho cercato anche notizie su google mi sono letta le vari articoli ho anche sbirciato nei video di altri per vedere se erano riusciti a portarlo in vita ho trovato soltanto dei video in cui hanno avuto dei figli da ghidri ma soltanto usando la mod command center questo perché perché non si può fare infatti se io clicco sul letto esce soltanto i fichi fichi con un fantasma non si può avere un figlio ok che meraviglia finalmente ma una con me ma doveva essere così nel senso all'inizio c'ero rimasta male che lui non mi tornava umano perché appunto avevo dei progetti in testa poi ho detto ma in fin dei conti no è perfetto doveva essere così ok faccio una foto per me per il mio album ok adesso siamo sposati vero vediamo un po il pannello allora anime gemelle colleghi giustamente coniuge stili di vita comodamente compatibili claude si è accorto che condividere uno stile di vita con amm ha reso ancora più profonda l'attrazione che provava innamoramento profondo tutti e due ce l'hanno e lei è unitaria quindi si sono coniugi vieni qua facciamo un'offerta di 5 mila dov'è controllare la bimba ok esprime il desiderio desidera un figlio allora ciao cerco cloro reneghide per conto dell'agenzia di adozione i tuoi documenti di richiesta erano quanto di meglio abbiamo mai visto non c'è il minimo dubbio che sarei un padre esemplare nel riconoscere la tua propensione a fare dal genitore ti diamo l'approvazione preliminare per un'adozione gratuita a prima di salutarci questa è un'offerta a tempo limitato quindi corre al computer per adottare oggi stesso andiamo corri 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 siediti unità familiare che cos'era? ah la batteria adotta adotta e mi sa che appunto è gratuito se noi lo facciamo attraverso il pozzo non paghiamo i mille simoleon la bimba è stata ma quanto è brava è un angelo poi mamma ti fa il bagnetto allora io non capisco perché ultimamente c'è penso sia un bug che noi nati li vediamo tutti quanti scuri l'ho visto anche in altri video desidererei un maschietto visto che la prima è stata femminuccia ovviamente bebè mi piacerebbe tanto quanto è carino lui Kyle eh sì questo ricciolino biondo mi piace troppo sì adotto lui ok lui lo andrà a riprendere la piccola sta ancora salendo le scale con i gattini che le stanno intorno ok vieni qua che le fai compagnia che bello fidanzati sposati a chi appare mira allegra dana 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 no quello era Batman Ghostbusters da 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 e lei continua a prendere soldi da suoi libri ormai veramente ve l'ho detto guadagnano un sacco di soldi e ne ha altri e due a scrivere riprendi a scrivere ha la nota dei fantasmi e nessuna viene ingresso poi la mia idea è quella anche di scrivere un altro libro per racconti quindi per bambini sempre così storie da piccoli brividi che non venderà ma che leggerà ai suoi bambini fai un bel bagno con la schiuma ariana e quindi stavo dicendo che questo è l'ultimissimo perfetto è l'ultimissimo aggiornamento io continuerò comunque a giocare la mia partita ma lo staff l'abbiamo esplorato e anzi come vi dicevo a questo punto io approfittavo di questa famiglia per esplorare meglio io già l'ho fatto un pochino però voglio esplorarlo meglio gli altri pack sovrannaturali quindi incantatori con ariana vampiri ci sono le sirene io spero un domani arriveranno le fate ve lo giuro voglio le fate tutti gli altri esseri come lupi mannari o zombie cioè non è che ne sento l'esigenza però le fate sì allora cerco intanto un nome io Donny Ghidri eccolo qui ma quanto sei carino mamma che occhi ma è proprio bello è bellissimo allora come tratti è frivolo quindi Emma ha una figlia con Justin e un figlio fratellastro ok quindi sono fratello e sorella padre madre sorella perfetto mentre lui patrigno ok quindi lo riconosce ma infatti lui ok è diventato genitore quindi me l'ha dato e allora posso continuare poi a a fargli tu puoi salire le scale sì sì a fargli avere poi altri figli sempre attraverso il pozzo ecco l'incontro tra i due fratellini che poi tutti e due biondini stupendi ma voi due intanto abbracciatevi coccolatevi cioè state creando una bellissima famiglia amori ma ciao fai delle facce buffe balbetta e niente ragazzi io direi di fermarci così con questo aggiornamento vi ho fatto un po' entrare nella vita di Emma Collins abbiamo visto la sua storia nel frattempo come vi ho detto abbiamo esplorato anche il pack e niente la vita di Emma continuerà in questo modo particolare con il marito fantasma figli adottati così tramite il pozzo che poi prenderanno ciascuno una propria strada sempre nel mondo sovrannaturale vi lascio così con questo aggiornamento noi ci vedremo nei prossimi video fatemi sapere cosa ne pensate tanti mi piace e commenti ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.